L'impegno a formulare un emendamento che rimetta in discussione il piano economico-finanzario che è legato alla delibera di ricapitalizzazione dell'AMA, che arriva in Consiglio Comunale domani, il giorno della verità, che l'armonizzi in qualche maniera con quella precedente, in cui non erano previsti tagli per i lavoratori, ma anche la formazione di un tavolo tecnico che dovrà valutare eventuali spostamenti positivi di bilancio in favore della contrattazione dei lavoratori. Sono gli impegni che vengono fuori al termine di una giornata convulsa per i lavoratori dell'AMA, un'assemblea infuocata nella notte in cui si è scongiurata l'interruzione del servizio pubblico, poi un presidio iniziato alle 5 del mattino dinanzi alla rotonda dove si trova la sede dell'azienda e infine un'assemblea con toni accesi e clima tesissimo, tra lavoratori, sindacati, il sindaco Biondi, l'amministratore Berardi e il consigliere regionale di Benedetto. La delibera di ricapitalizzazione che arriva in Consiglio domani, se verrà votata, servirà a non portare libri in tribunale. Sul piatto 1.300.000 euro, ma la delibera prevede taglie e pesanti per i lavoratori. E loro non ci stanno. Il sindaco Biondi ha avuto un confronto molto duro e acceso con i lavoratori presenti strada al presidio. Il comune già si era impegnato con un trasferimento straordinario di 900.000 euro. Sull'adeguamento del contratto collettivo ha detto abbiamo fatto addendum a contratto di servizio e stiamo facendo il tenore di capitalizzazione. Questa era un'azienda, ha ribadito Biondi, che chiudeva con un passivo di 1.300.000 euro. È stata messa la polvere sotto al tappeto, ha detto, e nel frattempo è stato eroso il capitale sociale. Ora bisogna intervenire. Il piano di ristrutturazione è prudente, intanto sto predisponendo un emendamento, che spero sia votato da tutte le forze in Consiglio, per armonizzare i due piani, il PEF allegato all'addendum e il piano di ristrutturazione allegato alla ricapitalizzazione. Perché venerdì va in Consiglio Comunale una delibera che ricapitalizza l'azienda, ma quota parte di quella ricapitalizzazione, quota parte importante, viene dal taglio di 800.000 euro del salario dei lavoratori. La divisione è facilissima, sono 130 dipendenti, impatta per più di 400 euro al mese per ognuno. Adesso in questa interlocuzione abbiamo l'impegno del sindaco a formulare un emendamento che rimetta in discussione il piano economico finanziario che oggi è allegato alla delibera di ricapitalizzazione, o almeno che ne armonizzi contenuti con un piano industriale che è stato approvato non più tardi di 20 giorni fa, nella delibera del 39 di settembre. Noi siamo un po' sconcertati perché in una delle due delibera si dice che non si impatta sul costo del lavoro, su questa che si cava ad approvare venerdì invece si taglia di 800.000 euro questo costo.